Proseguiamo con il prossimo ospite, Roberto Di Donna, atleta oroolimpico e pluricampione mondiale di tiro a segno. Innanzitutto grazie Roberto per essere qui, vieni Roberto, veramente congratulazioni e grazie ancora di essere qui. Ringraziamo il dottor Pugliarello che ti ha coinvolto. Mi ha seguito soprattutto il dottor Pugliarello, ho fatto un percorso con lui prima delle Olimpiadi e anche dopo, insomma mi ha seguito da vicino. Dunque devo dire ancora grazie a Rosario per l'ottimo lavoro che abbiamo fatto insieme e che abbiamo parlato avanti. Vi dico, non mi sono mai fermato a rivedere questa finale. Mi capita di vederla a volte quando vengo invitato da alcune manifestazioni perché è una cosa che emotivamente ancora un po' mi tocca. Intanto grazie, sono molto felice di poter parlare, di portare in realtà un piccolo saluto perché è stata una giornata estremamente interessante. Ho sentito delle testimonianze straordinarie da parte di tutti gli invitati. Ho delle affinità con Andrea perché chiaramente chi vive di sport e chi fa lo sport e chi dedica una vita allo sport ha comunque delle affinità elettive. Dunque per me è stato molto interessante sentire la testimonianza di Andrea quando ha detto stavo male ma volevo andare avanti perché credo che la differenza in tutti i campi, principalmente anche nello sport, sia proprio la motivazione. Quella cosa che dice io ce la devo fare, ce la voglio fare e devo andare oltretutto. Io ho vinto l'Olimpiade perché sicuramente Wang all'ultimo colpo non ha tirato bene ma ci ho creduto fino alla fine. Una gara finisce quando si taglia il traguardo, non è un secondo prima, non è un secondo dopo. E questo vale in tutti i settori. Sono delle testimonianze straordinarie di persone che hanno costruito una carriera vivendo all'estero con grandi sacrifici ma alla fine con un grandissimo arricchimento. Perché riuscire a cercare di superare i propri limiti vuol dire arricchirsi. Arricchirsi spiritualmente, arricchirsi intellettualmente, culturalmente. Io ho avuto il privilegio tuttora, sono commissario tecnico della Nazionale di Tiro a Segno, giro il mondo per accompagnare la squadra, parto per il Cairo martedì, torno, poi vado in Ungheria, poi vado in Brasile, poi vado in Giappone. Ed è sempre comunque un arricchimento. Io quello che posso dire è che se si parla di sport, lo sport non è solo professionismo. Lo sport è gioco, lo sport è vivere bene il tempo libero, con divertimento. Lo sport insegna a rispettare se stessi, a superare i propri limiti ma soprattutto a rispettare gli altri. Viviamo in una comunità, abbiamo bisogno del rispetto, abbiamo bisogno dello stare bene insieme, abbiamo bisogno dello stare bene fisicamente. Si parlava prima anche con Davide. Lui ha iniziato poi a fare sport e ha detto che comunque si sta meglio, vive meglio. Tutto funziona meglio, dobbiamo avere cura del nostro corpo e del nostro spirito. E io quello che vi posso dire ragazzi, in bocca al lupo, vi auguro di poter realizzare i vostri sogni. Se mettete l'asticella mettetela sempre a un punto dove potete raggiungerla ma anche superarla, perché questo è importante. Credere nei propri mezzi e in bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie, grazie ancora Roberto per il tuo prezioso intervento.